Allora, iniziamo alla seconda lezione dell'ora del codice. Siamo entrati in codec.org e prendiamo l'ora del codice. Selezioniamo uno che abbiamo scelto per questa volta. Start. Entriamo. Facciamo inizia. Saltiamo l'introduzione. Scegliamo Alex e andiamo a vedere quali sono i passaggi più importanti. Siamo alla lezione 2. Dobbiamo andare avanti, distruggere. Vediamo che ci sono due caselle e poi distruggere. Mettiamo avanti, avanti, distruggi. Facciamo esegui e farà il nostro lavoro. E praticamente il secondo è finito. In questo caso ci dice di abbattere tutti i tre gli alberi. Quindi, devo andare uno, due, tre avanti, distruggere e mettere il colmante a destra. Dopo aver distrutto, giro a sinistra. Non ho finito perché dovrei farne altri tre, ma in questo caso lascio a voi il compito di finire gli altri tre. Qui la situazione si fa più interessante perché devo utilizzare, ripeto, devo mettere uno, due, uno, due, tre, quattro assi di betulla. Quindi, metto, esegui, ripeti quattro volte, metti assi di betulla, avanti. E abbiamo finito. Vedete come è interessante mettere il comando ripeti. Siamo al punto 7. Il comando ripeti, questa volta dobbiamo ripetere il passaggio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Dobbiamo seminare attraverso il comando ripeti, semina il grano e vai avanti. Dovete fare attenzione perché a un certo punto si arriva giù e dobbiamo trovare delle informazioni per tornare indietro. Queste informazioni per tornare indietro le troverete da soli andando a vedere che cosa dovete fare una volta che siete arrivati giù in fondo. Ricordatevi che l'area di lavoro vi dice che dovete utilizzare 11 blocchi. Lascio a voi tutto il resto. Siamo arrivati al punto 11. Qui la situazione è un po' più complicata della precedente. Dobbiamo rompere dei blocchi ma non sappiamo se sotto questi blocchi può esserci lava oppure no. Ci viene in aiuto il comando se c'è lava metti dei blocchi. Dobbiamo eseguire uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Dobbiamo passare sette volte. Quindi siamo nella condizione di ripetere sette volte cosa? Distruggi perché dobbiamo distruggere tutta questa parte ma d'altra parte non sappiamo se sotto c'è lava. Inserisco se davanti c'è lava cosa devo mettere dei vetri dei blocchi per non caderci sopra. Questa situazione è estremamente interessante perché al comando ripetivi è stato aggiunto un altro tipo di comando. Se c'è qualcosa fai questo. Vediamo che se eseguo succede molto. Trovo la lava, metto il blocco, va avanti. Ho dimenticato di mettere avanti. Quindi è sempre un po' complicato. Eseguiamo. Se c'è lava non mette, se c'è lava metti, se non c'è lava non mette, non c'è lava non mette, non c'è lava mette ed è andare avanti a completare l'esercizio. La voglia di strafare mi ha fatto dimenticare di mettere avanti. Questa situazione non ve la mostro ma ve la spiego. Avete, dovete andare, dovete prendere tre blocchi di lava rossa. Uno, due, tre. Quindi dovete andare avanti due volte, prendere il blocco di lava rossa, poi andare avanti due volte, prendere il blocco di lava rossa, andare avanti due volte e prendere la lava rossa. Quindi c'è da ripetere due volte, c'è da utilizzare ripeti, il comando ripeti due volte. Non sapete se quando rompete la lava rossa c'è la lava oppure no. Quindi dovete usare il comando se c'è lava mettete dei sciolti. Non ve lo faccio vedere, voglio vedere proprio come ve la cavate. Bene, ho completato la mia ora del codice. Personalizziamo il mio attestato. Invia. Ecco qui. Questo è il mio attestato, che ho finito la mia ora del codice su Minecraft. Ciao. 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 Grazie.